si dà il fondo dopo averlo cartato tutto deve essere liscio come veramente il vetro quindi carta prima più doppia siamo partiti dalla 100 e qualcosa fino arrivare addirittura alla 800 che leva tutte le impurità tutti i piccoli rimasuli diciamo quindi quando è liscio come appunto come un legno nuovo quindi passate il dito non ci deve essere nessun diciamo nessuno spessore diciamo così assi dal fondo fondo per legno detto anche prime se mi riesce pochino alla volta senza furia perché sennò si rovina tutto il lavoro ci vuole giorni per fare una bella perniciatura ora non siamo in un ambiente ventilato un ambiente completamente aperto sono da solo ma la prima cosa è la salute quindi la mascherina se siete in ambienti chiusi è fondamentale